Ciao a tutti ragazze, oggi sono tornata con un nuovo video essenzialmente per due motivi innanzitutto perché ho cambiato le luci della postazione e volevo un consiglio su come appunto mi vedevate se meglio o peggio di prima e poi perché ho fatto un trucco che mi piaceva particolarmente e volevo mostrarvelo facendo quindi così diciamo il classico video faccia del giorno, è un trucco completamente realizzato con Neve Cosmetics tranne un paio di cosette voglio precisare che Neve non mi paga né mi invia prodotti, anzi sono io a lasciare molti soldi a loro però mi piace davvero tanto e quindi insomma ci teniamo anche a farvi vedere questo make up. Parto dalla base, per la base ho utilizzato il fondotinta minerale, l'eye coverage mineral foundation nella colorazione light rose e l'ho steso con un flat boogie in questo modo ho avuto una coprenza diciamo media alta perché comunque ha una buona coprenza e tanto ormai la bronzatura era bella che è andata e quindi ho usato questo. Come correttore, visto che comunque non ho occhiaie particolarmente marcate, ho usato nascondino nella colorazione medium e ve ne ho parlato già nel video sui correttori, vi lascio il link. Poi sempre come base ho usato la cipria, la mia cipria preferita in assoluto che è la Hollywood ed è questa cipria bianca, trasparentissima, finissima che non fa lucidare assolutamente la pelle, rende la pelle liscissima ed è davvero davvero impalpabile ed è una cipria davvero fantastica. Mentre come blush ho comunque voluto fare la base totalmente opaca visto che come vedete gli occhi sono molto sbrilluccighini e come bronzer ho usato dalla mia palette neve questo bronzer opaco che sul sito viene definito un rosa biscotto ma io definirei più un beggiolino un po' scuro insomma, però come vedete non è molto molto scuro, è totalmente opaco, ho fatto un leggerissimo contouring con questo, mentre come blush ho utilizzato il blush che è un blush rosa che va utilizzato con molta molta moderazione perché è molto carico ed è completamente opaco, è questo rosa qui. Infatti come vedete c'è giusto proprio un accenno perché altrimenti viene fuori un po' effetto haidi. Passando agli occhi ho utilizzato come primer l'unica, una delle cose che non è neve, è il classico I Love Stage di Essence e per le sopracciglia ormai la conoscete tutti la matita Natural Bro Designer di Benicos. Ora passiamo al trucco che mi piace davvero tanto, non so quanto lo riusciate a notare, magari vi lascio anche qualche foto alla fine. All'inizio dell'occhio ho steso Liquid Mirror che è questo oro brillante fantastico per cui ho fatto proprio un punto luce e poi sul resto della palpebra ho applicato il sole d'Africa, che è questo color rame, lo potremmo definire, non so, molto molto aranciato e molto sbrilluzzichino anche questo. Sono entrambi applicati da asciutti per un fattore di comodità e di fretta insomma, però mi piace molto molto l'effetto anche perché rimane un po' più naturale e meno carico. E nella piega dell'occhio ho messo un pizzico di croissant, sempre di neve però in cialda e l'ho sfumato sulla palpebra mobile. Per quanto riguarda invece l'illuminante ho applicato plastic che sembra un giallino ma in realtà è posso dirvi tipo un dorato molto molto chiaro, vedete. E questo è un illuminante fantastico perché rimane molto naturale, cioè non è molto visibile ma dà luminosità allo sguardo e è davvero davvero bellissimo, ve lo straconsiglio. Questo quindi è quello che c'è diciamo sulla palpebra e allì nella rima inferiore dell'occhio, cioè nella rima interna, ho utilizzato il pastello e l'iquirizia, quindi il classico nero. Mentre sotto l'attaccatura delle ciglia ho utilizzato una new entry che ho comprato proprio l'altro giorno, che è caramello, che è, ve la faccio vedere visto, che è nuova, nuova per me insomma, che è questo proprio color caramello insomma. E anche questo è satinato, come vedete, e l'ho messo proprio sotto l'attaccatura delle ciglia, che dà diciamo un po' di ombra e luce allo sguardo. E il Rimmel, il mascara e anche questo non ho quello di neve, anche perché l'ho provato una volta ma diciamo che la formulazione non mi fa impazzire perché dalla prima impressione che ho avuto mi sembra troppo secco e predilico e mascara che hanno una formulazione un po' più cremosa e quindi ho applicato il Pupa Vamp su le ciglia superiori e inferiori. Per quanto invece riguarda le labbra, se non stai andeciso fino all'ultimo se mettere coccinella o fenicottolo perché sono al momento le uniche due matite labbra che ho di neve. Ma coccinella su di me fa un effetto tremendo perché è un rosa troppo chiaro e mi fa un po' effetto morto addosso. E quindi ho optato per fenicottero, ormai l'avete vista in moltissimi miei video. E sopra l'ho tamponata con il rossetto di Essence, lo 08, il color Crush. Scusate i rumori. In questo modo mi va a durare di più, me lo rende più cremoso e così non mi va a seccare le labbra. E niente, questo è il mio trucco quasi totalmente neve Cosmetics. Fatemi sapere se vi piace, fatemi anche sapere cosa pensate delle nuove luci, se mi vedete meglio, peggio o uguale a prima. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!